Il Centro Medico Life Care nasce come una struttura che vuole rispondere a una nuova esigenza, quale? Esigenza di una prevenzione moderna, concentrata sull'individuo e non sulla patologia, che ha però all'interno anche la possibilità di fare delle diagnostiche avanzate, anche queste moderne, secondo il criterio del non dolore, per cui con anestesista disponibile, per tutte le procedure, quelle conoscopiche, cistoscopiche, isteroscopiche, quindi fatte da professionisti di assoluta capacità. La concezione è nuova per l'Italia perché è un'anticipazione di quello che può essere la patologia, di quello che deve essere la prevenzione e poi soprattutto una riflessione su quelli che erano dogmi che poi vengono smentiti a distanza di 30 anni e anche sugli studi che vengono fatti adesso. In particolare c'è la preziosità del DNA. Assolutamente sì, oggi c'è la possibilità di andare a valutare determinati aspetti che sono presenti nella nostra Costituzione e che una volta di cui si prende la coscienza si può avere la possibilità concreta e reale di strategie attraverso perfezionamenti del nostro stile di vita, attraverso modifiche della mia alimentazione, di andare a condizionare l'espressione dei nostri geni, tradotto in pratica a cercare di mantenere più attivi e funzionali i geni che ci possono proteggere e di cercare invece di tenere più silenziati e più sotto controllo che ci possono svantaggiare. La nuova logica è quella di inserire questo centro nel circuito della prevenzione anche genetica, quindi guardando all'individuo da un punto di vista del DNA e di proporre terapie che non siano solo mediche ma anche comportamentali, nutrizionali, stili di vita, modificazioni che oggi si è visto che condizionano molto di più il processo del benessere che non la singola terapia farmacologica.